Ben ritrovati, iniziamo subito presentando il prossimo ospite, il prossimo ospite Sergio Mascetti con il suo speech sulla ricerca scientifica nel campo delle tecnologie assistive, Sergio è un professore associato al Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano e il suo speech ha appunto lo scopo di introdurre la ricerca accademica sulle tecnologie assistive. Prima di iniziare vi voglio ricordare di porre le domande un po' prima su YouTube perché appunto c'è un po' di differenza tra la modalità live e quella che vedete su YouTube e che potete utilizzare anche il canale di Slack con la Trek 3. Detto questo lascio parlare Sergio. Grazie Serena, ciao a tutti. Come diceva Serena vi prego di fare domande, di iscrivervi sul canale YouTube o dove riuscite che ho chiesto a Serena poi di trasmettermele in chat su Zoom che stiamo usando così posso interagire un pochino con voi. Io sono abituato o meglio mi sono dovuto abituare in questo semestre a fare lezioni con i miei studenti online che ha dei pregi e dei difetti. Il difetto più grande è che non vedo in faccia i miei studenti quindi non posso capire se si stanno annoiando o se si stanno andando troppo veloce. Di solito in questi anni di didattica penso di aver maturato una buona capacità di capire dall'occhio dello studente se sono noioso o se stanno troppo veloce ma non vedendogli questo mi stugge. Cerco di farlo almeno dalle domande, dagli interventi ma se siamo su YouTube è ancora più difficile. Quindi vi prego veramente di intervenire con dei commenti, delle domande, una richiesta di approfondimento in modo tale anche da farmi capire se quello che sto dicendo mi sta interessando, se devo parlare d'altro e così via. Anche perché devo dire non ho ben chiaro neanche qual è il pubblico a cui rivolgere questa mia presentazione. Quindi ho presentato una presentazione pensando a delle persone che se ne intendono di tecnologie assistive ma magari che sono anche gli sviluppatori quindi o lavorano nel campo perché sono magari sono delle persone con disabilità o magari sono delle persone che lavorano nel settore o sono delle persone che sviluppano o vorrebbero sviluppare tecnologie assistive ma che non hanno esperienza di ricerca scientifica. Quindi non so se tra di voi c'è qualcuno, magari vuole già iniziare a scriverlo, se c'è qualcuno che fa ricerca nel campo di tecnologie assistive mi sarebbe molto piacere avere un suo magari intervento nei commenti mentre parlo. Per gli altri invece magari scrivetemi se sviluppate, se siete magari delle persone con disabilità o se siete semplicemente delle persone interessate alla tematica ma che non hanno mai visto nel dettaglio questi argomenti. Allora, in questa presentazione vi parlo di quello che è la mia tematica di ricerca. Voi sapete che in università i docenti hanno un doppio ruolo da un lato, fanno lezione, ma dall'altro fanno ricerca scientifica. E non so quanti di voi sappiano cosa vuol dire fare ricerca scientifica. Quindi ho preso il problema, come dire, un po' alla larga e in questa prima Zai vi dico cos'è la ricerca scientifica in generale. In generale quella ricerca scientifica si cerca di prendere, di considerare un problema e si cerca di trovare una nuova soluzione. Potrebbe essere una nuova soluzione perché il problema è nuovo, oppure potrebbe essere una diversa soluzione ad un problema esistente. In questa fase di Covid è perfino troppo facile fare un esempio di cos'è una soluzione. Potrebbe essere il problema come curare i malati di Covid, la soluzione, una nuova cura per il Covid. Ovviamente quello che caratterizza tutta la ricerca scientifica è il metodo scientifico. Adesso non ho tempo, ora, magari ti annoierei perché non ve ne frega niente, di, magari probabilmente lo sapete già, cos'è il metodo scientifico. Comunque l'importante è che tutta la ricerca è caratterizzata da una metodologia, questo è un metodo di lavoro chiamato metodo scientifico. Qual è la caratteristica tipica della ricerca scientifica in ambito informatico? È quella di affrontare quei problemi tipici delle discipline informatiche, dell'informatica è una scienza e ha varie discipline, sistemi operativi, reti, algoritmi, interazione con la macchina, machine learning, tutte, sono tantissime. Alcuni problemi sono tipici di queste discipline, altri problemi in realtà sono tipici di altre discipline, ma vengono affrontati con i metodi e gli strumenti tipici dell'informatica. Quindi, per esempio, non so se avete messo in do parlare di bioinformatica, sono i problemi della biologia affrontati e risolti con metodi e strumenti tipici dell'informatica. Mi è servito a fare questa introduzione perché vi vorrei parlare in questa presentazione di cos'è la ricerca scientifica nell'ambito delle tecnologie assistive. e una caratteristica fondamentale di questo ambito di ricerca è quello di avere una motivazione comune, cioè tutto l'ambito di ricerca, nell'ambito di ricerca delle tecnologie assistive, è caratterizzato dall'obiettivo di voler fornire strumenti di supporto alle persone che ne hanno bisogno. E vado ad approfondire tra un attimo chi sono, tra qualche slide, chi sono queste persone che ne hanno bisogno, perché in generale si parla di persone con disabilità, ma vedremo tra poco che in realtà l'insieme di possibili persone che possano necessitare tecnologie assistive e di soluzioni accessibili è in realtà più ampio. Come spesso accade per moltissimi, in moltissimi ambiti della ricerca, ci sono argomenti di ricerca più di base, quindi non con un'applicazione immediata e invece argomenti di ricerca più applicativi in cui si può subito identificare un contesto nel quale si può mettere in pratica la ricerca. Vi faccio un esempio. Qualche anno fa, era il 2008, ci si trovava in questa situazione. Erano usciti i primi dispositivi mobili, o meglio si stavano iniziando a diffondere dispositivi mobili, non so quanti sono vecchi come me e magari si ricordano quel momento storico, c'erano dei dispositivi portatili a tocco con lo schermo touch e poi a un certo punto, tipicamente usabili che si usavano col pennino e poi a un certo punto, nel 2008, sono usciti gli iPhone, o 2007, forse 2007, non mi ricordo, 2007-2008. Problema, tutti questi dispositivi, l'intera categoria di dispositivi non era accessibile alle persone con disabilità visive. Il problema era grave, soprattutto perché si capiva già che sarebbe stata una tipologia di dispositivi che avrebbe avuto un grandissimo successo e poi perché era difficile pensare come uno schermo totalmente piatto, senza riferimenti aptici, se non l'iPhone, uno dei primi iPhone aveva solo il pulsante home, quindi senza pulsanti fisici, come potessero essere resi accessibili alle persone con disabilità visive. In quei anni, anzi non in quei anni, proprio nel 2008, viene pubblicato un articolo, quello che poi è stato molto famoso, lo vedete in fondo, nelle mie slide noi accademici siamo molto attenti a citare le fonti e quindi citerò diversi articoli di cui parlo, ma non starò tutte le volte a leggere gli autori, il titolo, che è noioso, li trovate lì sotto, poi se siete interessati ad approfondire qualche argomento mi scrivete o magari me lo fate nelle domande e ve ne posso parlare in maniera più approfondita. Ecco, nel 2008 questi tre ricercatori dell'University of Washington, Kane, Begham e Wobbrook, escono con un articolo e in questo articolo fanno vedere il loro lavoro che analizza il problema dell'accessibilità ai dispositivi mobili e propongono una soluzione. La soluzione, e la racconto in un minuto, è basata su questo principio. Si esplora con un dito sul dispositivo, mentre si esplora si sente il nome delle cose che si stanno toccando, poi con un secondo dito si tocca per selezionare un particolare oggetto, quindi se vogliamo far partire un'app, per esempio, scorriamo tra le icone, sentiamo il nome delle icone, quando troviamo quella che ci interessa, tocchiamo con un altro dito e quella parte. E poi proponiamo anche usare dei flick, degli gesti sullo schermo col dito per delle azioni aggiuntive. Ecco, se qualcuno di voi è esperto o anche solo ha sentito, per così, come informazione generale, come si accede ai dispositivi mobili adesso, saprà che questa cosa è, questa è esattamente la stessa tecnica che è stata adottata dalla Apple nel voiceover, che casualmente è stato rilasciato in una moda. Cioè questo è stato uno degli articoli importanti nella letteratura scientifica e la ricerca di questi tre ricercatori di fatto ha suggerito alla Apple come sviluppare la loro tecnologia assistiva. Come avviene tipicamente il, tengo l'occhio l'ora perché non voglio andare lì qua, come avviene il processo di ricerca? Vi spiegherò tra qualche minuto che uno dei vari ambiti di ricerca che sono, che fanno parte delle tecnologie assistive dell'ambito di ricerca di tecnologia assistiva è quello della Human-Computer Interaction. Nell'ambito di Human-Computer Interaction una metodologia di lavoro tipica è quella del User-Centered Design. Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, vuole scrivermi magari in chat se ha sentito parlare dello User-Centered Design. Serena, tu poi mi riporti nella chat di Zoom per cortesia? Sì, certo. Grazie. Lo User-Centered Design è un modello di sviluppo del software ma anche di altri prodotti in cui si mette al centro l'utente e si cerca di progettare la soluzione sulla base di quelle che sono le esigenze dell'utente. Quindi quello che facciamo noi tipicamente nelle nostre attività di ricerca è di svolgere una fase di analisi tipicamente con la partecipazione degli utenti poi identifichiamo dei principi di design e di nuovo se possibile lavoriamo con gli utenti sviluppiamo una soluzione che tipicamente è un prototipo quindi non è una soluzione completa è una soluzione preliminare che ci serve però per svolgere delle valutazioni sempre con gli utenti stessi cercando di comparare la soluzione adesso arriva la domanda di Giulie svolgiamo una valutazione comparando la soluzione con altre e poi fattore molto importante iteriamo i passaggi sopra cioè non ci basta svolgere queste operazioni una volta sola ma noi svolgiamo queste fasi e poi le ripetiamo fino a quando non siamo soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto allora Giulie chiede come si entra a far parte del team di ricerca e tecnologia assistive ah bella domanda Giulie allora una possibilità è sicuramente quella di studiare informatica io lavoro nel dipartimento di informatica che tra l'altro dovreste vedere come edificio proiettato alle mie spalle come sfondo virtuale e quindi i miei studenti molti dei miei studenti che seguono i miei corsi poi possono fare la tesi con me e quindi trattare argomenti di ricerca se non è il tuo interesse di studiare informatica noi abbiamo parecchie collaborazioni sia con associazioni che con altre persone singole che ogni tanto ci dicono che sono interessate a aiutarci a collaborare all'attività di ricerca quindi noi siamo ben contenti di coinvolgere queste persone e in base alle loro competenze a quello che sanno fare trovare dell'attività da svolgere assieme a loro spero di averti risposto Giulie adesso fococi c'è un po' di ritardo quindi non aspetto la tua risposta perché sennò teniamo tutti in attesa 5 minuti che tu mi rispondi ma andiamo avanti se non ho risposto vuoi sapere qualcos'altro me lo chiedi quindi questo è tipicamente il processo che avviene non è sempre così però è un processo comune di ricerca e vi faccio un esempio un annetto fa due anni fa assieme a alcuni studenti abbiamo affrontato questo problema noi volevamo sviluppare una soluzione per guidare un utente con disabilità visive che cammina lungo la strada ad evitare un ostacolo voi sapete che tipicamente le persone non vedenti e alcune delle persone ipovedenti usano il bastone bianco per riuscire a capire in modo aptico cioè col tatto se c'è un ostacolo lungo la strada noi volevamo creare uno strumento che fosse in grado di dire prima di sentire quel bastone se c'era un certo ostacolo il bastone tipicamente arriva a un metro, un metro e mezzo di distanza noi volevamo riuscire a dire in anticipo se c'era qualche ostacolo quindi abbiamo fatto un'analisi del problema lavorando con le persone con disabilità visive e abbiamo identificato le dimensioni dell'ostacolo che andavano riprodotte cioè sonificare questo è un termine tecnico che abbiamo introdotto senza spiegarlo sonificare vuol dire trasformare un'informazione in una misura in un'informazione in audio quindi avere un suono che mi rappresenta una certa misura quindi noi abbiamo identificato che l'utente voleva sapere qual era la distanza frontale dall'ostacolo la distanza laterale l'altezza dell'ostacolo e la dimensione dell'ostacolo quindi abbiamo progettato diverse soluzioni di sonificazione cioè di come mappare col suono queste dimensioni abbiamo implementato queste sonificazioni cioè abbiamo prodotto il software che trasforma in suono queste informazioni e poi l'abbiamo valutato via web cioè non abbiamo fatto veramente l'applicazione finale che doveva riconoscere gli ostacoli abbiamo solo valutato con un questionario via web qui magari qualcuno di voi ha anche partecipato perché abbiamo coinvolto molte persone con responsabilità visive per fare questi questi questionari per capire quale di varie ipotesi di sonificazione funzionava meglio abbiamo fatto un primo giro e ci siamo accorti che quello che abbiamo fatto non funzionava tanto bene ne volevamo migliorarlo quindi abbiamo fatto un secondo giro abbiamo riprogettato le soluzioni le abbiamo riempiementate le abbiamo rivalutate a quel punto eravamo abbastanza soddisfatti abbiamo sviluppato l'applicazione abbiamo progettato anche il sistema vedete qua si vede un'immagine questo è l'utente ha un dispositivo mobile uno smartphone che è appeso con una pettorina al corpo punti in avanti non è tale da riuscire a inquadrare la strada e poi l'utente attraverso le cuffie bone conducting cioè che non occludono il canale uditivo riesce a sentire le informazioni che gli vengono date e quindi usando questo sistema poi abbiamo rivalutato con gli utenti per capire se funzionava quali erano le limite e poi abbiamo fatto la nostra pubblicazione scientifica su questo su questa tematica quali discipline sono coinvolte non so quanti di voi abbiano una formazione informatica però immaginatevi l'informatica è una scienza così come in matematica ci sono tante discipline cioè analisi la matematica discreta la statistica e così lì anche in informatica ci sono tante discipline e una caratteristica del campo di ricerca delle tecnologie assistive è quella di di essere multidisciplinare nel senso che non solo non riguarda solo l'informatica per esempio sono ricercatori da altre aree per esempio dalle scienze cognitive ma anche all'interno dell'informatica sono varie discipline coinvolte quindi una disciplina che compare molto spesso con la human computer interaction perché come vi ho detto l'aspetto umano di capire cosa vuol fare l'utente e come riesco a farlo è importante ma poi ci sono altre spesso bisogna risolvere problemi da altre discipline come il data management ok adesso arrivo alla domanda di Marinella interessante torno indietro le slide finisco solo questa slide e poi torno indietro quindi usiamo spesso tecniche di computer vision tecniche computer vision vuol dire data un'immagine capire cosa c'è nell'immagine in modo da riuscire a capire a estrarre dell'informazione da un'immagine e poterle dare all'utente tecniche di machine learning che servono per imparare addestrare dei sistemi informatici che a partire da alcuni esempi imparano a fare delle attivazioni tipicamente a riconoscere delle cose oppure tecniche di trattamento dell'informazione audio e sonificazione ho un attimo che iniziano ad arrivare le domande vi ringrazio molto mi piace moltissimo se ci sono posso rispondere alle domande allora Marinella chiede quali criteri di produzione sono usati per sonificare un dato visivo la domanda è molto ampia questo è un ambito di ricerca proprio l'ambito di ricerca della sonificazione tratta proprio questa tematica cioè come trasformare un'informazione qualunque in un'informazione audio noi ci abbiamo lavorato abbastanza su questo ovviamente dipende da qual è l'informazione che vuoi trasmettere faccio un esempio supponiamo di voler trasmettere una sola dimensione cioè noi abbiamo un solo valore e vogliamo che varia e vogliamo trasmettere un esempio si potrebbe associare la frequenza quindi noi abbiamo valore medio è quando diventa alto fa non so quanti di voi usano l'applicazione light detector light detector è un'applicazione che abbiamo fatto noi e che usa la sonificazione proprio per far capire alle persone non vedenti quanta luce c'è quindi la persona non vedente inquadra il cellulare verso dove vuole lui dove pensa che ci sia una sergente di luce e se c'è tanta luce con la telecamera riconosce quanta luce c'è se c'è tanta luce farà se c'è tanta luce farà per esempio se serve per spegnere la luce io mi metto di fianco all'interruttore se sono una persona non vedente non so quando la luce è accesa o spenta quindi mi metto di fianco all'interruttore punto sento che fa bip poi lo schiaccio fa bip allora vuol dire che lo accede quindi la posso tornare a spegnere spero Marina di averti risposto ovviamente in modo molto veloce se sei interessato abbiamo parecchi articoli da suggerirti su questa tematica ok? perché è una tematica in realtà molto ampia per esempio questo nostro articolo affrontava un problema ben più difficile perché in questo caso noi volevamo trasmettere quattro dimensioni in un colpo solo quindi non potevi fare solo bip perché dovevi anche trasmettere quant'era lontano l'oggetto rispetto a te quant'era lontano lateralmente quant'era l'altezza rispetto alla strada dell'oggetto e quant'era grande l'oggetto quindi dovevi fare un suono dei suoni che fossero facilmente distinguibili dall'utente su quattro dimensioni diverse che questo momento diventa molto più difficile ok? c'è un'altra domanda di Universa Lazzes mi interessa sapere la sua opinione in riguardo dell'impatto che può avere l'attuale situazione sulla ricerca e in specifico la ricerca su tecnologia assitile l'Universa Lazzes che ha fatto questa domanda intendete la situazione del covid il fatto che siamo tutti a casa per il covid vado avanti se nel mente mi chiedete meglio la domanda poi rispondo ok? mi interessa sapere le sue opinioni in riguardo all'impatto che può avere l'attuale situazione intendete la situazione del covid che mi rispondete dopo rispondo alla domanda intanto vado avanti con un'altra slide grazie mille vi ringrazio molto per le domande sono per me fondamentali se no se parlo solo per 45 minuti mi annoio io figuratevi voi quindi abbiamo detto quali discipline sono coinvolte vi ho fatto alcuni esempi alcuni di voi magari non sanno neanche cosa vogliono dire queste discipline e allora vi faccio un esempio l'esempio che vi faccio è quello della computer vision anni fa ormai stiamo parlando di forse 6-7 anni fa se non addirittura 8 abbiamo fatto un lavoro per cui cercavamo di riconoscere dalla telecamera del dispositivo mobile le strisce pedonali questo ovviamente per aiutare una persona non vedente o con disabilità visiva a capire dove fossero le strisce pedonali e ad allinearsi nella maniera corretta per attraversare le strisce pedonali questo non è un problema tipicamente human computer interaction o meglio ha delle componenti human computer interaction ma il problema principale è sapere dove dove si trovano le strisce ho visto la domanda Antonio arrivo subito dobbiamo sapere dove si trovano le strisce e sapere dove si trovano le strisce richiede delle tecniche non banali di computer vision e di pattern recognition quindi abbiamo fatto tutto un lavoro adesso qua non vi sto a spiegare ma l'idea è che dall'immagine noi la analizziamo abbiamo una tecnica automatica per elaborare l'immagine che alla fine ci permette di capire non solo se ci sono le strisce pedonali o meno ma anche dove sono rispetto all'utente questo per farmi un esempio in cui il contributo spesso all'interno della tecnologia assistiva non è solo nell'ambito di human computer interaction per quanto di human computer interaction sia spesso molto importante ma anche a volte bisogna attingere da altre discipline e o usare delle tecniche allo strato dell'arte oppure fare delle innovazioni in altre discipline per delle tematiche per le applicazioni specifiche che servono per le tecnologie assistive allora Antonio dice avete usato solo la suonificazione o anche un feedback aptico cinestetico certo la vibrazione allora per quella delle per quella dipende ovviamente si possono quello che noi cerchiamo di fare sono applicazioni multimodali in cui si usino informazioni visive magari per persone ipovedenti informazioni sonore e informazioni aptiche per esempio la vibrazione faccio un esempio Antonio abbiamo fatto un'applicazione simile a questa delle strisce per il riconoscimento dei semafori allora l'applicazione l'utente inquadrava più o meno dall'altra parte della strada dove pensava ci fosse il semaforo ma non riusciva a vederlo l'applicazione riconosceva il semaforo e poi diventava tutto lo schermo verde o rosso se il semaforo era verde o rosso faceva un certo così una persona ipovedente magari riesce a vedere lo schermo magari non riesce a vedere il semaforo ma lo schermo tutto rosso grande lo riesce a vedere faceva un certo pattern di vibrazione con due velocità diverse in modo tale da dare un feedback aptico e poi aveva anche una sonificazione copiata da quella dei semafori sonori quindi era una soluzione usata dove non ci sono i semafori sonori quindi sia la risposta sia assolutamente cerchiamo di usare soluzioni multimodali dove si usano combinano soluzioni audio aptiche e dove si può anche visire quindi Universal Access dice sì qual è l'impatto dell'attuale situazione è un'ottima domanda perché noi diciamo facciamo ricerca quindi ripeto la domanda che magari non ve la ricordate qual è l'impatto dell'attuale situazione sulla ricerca e in particolare sulle tecnologie assistive è un impatto non banale perché mentre in altri ambiti non è coinvolto l'utente direttamente nella ricerca e quindi la ricerca può andare avanti in maniera indipendente qua noi abbiamo il problema che noi dobbiamo fare dobbiamo coinvolgere gli utenti nella fase di analisi di progettazione ma in particolare nella fase di testing quindi vi faccio un esempio di cosa abbiamo voluto fare di recente noi stiamo lavorando a una applicazione da utilizzare per guidare le persone all'interno dei musei le persone con disabilità visive all'interno dei musei in particolare per la fruizione di opere d'arte avevamo previsto di fare dei test nel museo questo evidentemente non è stato possibile dato il fatto che siamo tutti costretti a casa e quindi quello che abbiamo dovuto fare è riprogettare il test in modo fatale da farlo svolgere a casa agli utenti anche questo magari qualcuno di voi connesso l'ha fatto in questo periodo perché abbiamo rotto le scatole a molte persone facendogli provare l'applicazione e al telefono o in videochiamata cercando di capire cosa facesse raccogliendo date riguardo evidentemente è più difficoltoso perché vedendo la persona soprattutto facendo il test nell'ambiente vero dove ti interessa in questo caso il museo è molto più facile che emergano i problemi che noi vogliamo fare emergere invece a casa è stato un po' più complicato non era veramente l'ambiente giusto e abbiamo dovuto fare un po' di anche abbiamo dovuto fare dei lavori in più per adattare il test a funzionare a casa piuttosto che nel museo dove per esempio gli utenti potevano usare il nostro dispositivo invece hanno dovuto usare il loro abbiamo dovuto far funzionare tutto una serie di problematiche in più quindi sì sta avendo un impatto anche sulla nostra sulla nostra ricerca e un po' non sta necessariamente rallentando grazie Universal Access per la domanda una domanda che mi fanno spesso è come fate a scegliere il problema di ricerca e questo devo dire che io ho lavorato in vari ambiti di ricerca scientifica nell'ambito dell'informatica mi sono occupato di privacy mi sono occupato di ragionamento temporale devo dire che il modo in cui si sceglie il problema nell'ambito di tecnologia assistiva è diverso da quello che succede negli altri ambiti tipicamente negli altri ambiti il ricercatore conosce i problemi che si pone solitamente in letteratura e cerca di porre un problema una variante di un problema trovare una nuova soluzione a un problema già noto e così via insomma in modo tale che quel problema abbia una soluzione in quell'ambito quindi si pone i problemi cercando i problemi che abbiano una soluzione nell'ambito di interesse nell'ambito di tecnologia assistiva invece l'approccio è rovesciato non è in base all'ambito di ricerca che io scegli il problema ma si sceglie il problema tratto dal mondo reale e sappiamo che immagino sappiate che i problemi ci sono perfino troppi da risolvere e partendo da questi problemi noi dobbiamo adattare dobbiamo sorcare la soluzione magari coinvolgendo altre discipline varie discipline e le soluzioni disponibili in varie discipline e spesso questo problema viene quasi sempre scelto sulle tematiche o che noi conosciamo bene io ormai lavoro da circa dieci anni sulla tematica dell'accessibilità alle persone con disabilità adesive quindi mi sento di conoscere la tematica abbastanza bene ma comunque noi cerchiamo sempre di coinvolgere le persone con disabilità tanto che un membro del nostro team Cristian Bernareggi è una persona non vedente e quindi ci aiuta moltissimo nella fase di analisi dei problemi e poi cerchiamo di collaborare moltissimo con le associazioni questa fase dialogo con le associazioni per noi è cruciale perché ci permette non solo di individuare problemi nuovi l'esempio che ho fatto prima dell'accessibilità ai musei è nata proprio dalla collaborazione con un'associazione l'associazione nazionale subvedenti ha un bellissimo progetto che si chiama descrivedendo per creare delle descrizioni per le opere d'arte e da lì è nata l'idea di fare un'app quindi un sistema accessibile per erogare queste descrizioni quindi questo è un esempio secondo me come queste collaborazioni possono essere molto importanti noi non abbiamo nessuna preclusione rispetto a nessuna associazione noi collaboriamo con tutte le associazioni anzi la collaborazione con le associazioni è molto importante perché da un lato noi cerchiamo di risolvere dei problemi cari a queste associazioni dall'altro le associazioni spesso ci aiutano poi un po' a identificare i problemi ma soprattutto poi a trovare le persone che ci possano dare una mano per i test e questo per noi è fondamentale perché se non abbiamo le persone per fare i test la nostra ricerca praticamente non può andare avanti ecco vi dicevo prima le tecnologie assistive spesso vengono associate esclusivamente alle persone con disabilità certo è vero le persone con disabilità sono le persone che maggiormente tipicamente beneficiano della tecnologia assistiva ma non sono le uniche ci sono in generale tecnologie assistive servono per le persone che abbia per le persone che hanno una limitazione funzionale e questa limitazione funzionale non è può essere dovuta alla disabilità ma non è solo dovuta alla disabilità può essere dovuta ad altre condizioni che non vengono tipicamente classificate in maggiorità per esempio i disturbi specifici dell'apprendimento mi immagino che abbiate noto il fatto che le tecnologie assistive vengono molto usate per gli strumenti compensativi per persone con DSA per le persone con disturbi dello spettro autistico ma anche e questo forse ci si presta spesso poca attenzione per persone con disabilità temporanea o con disabilità situazionali con disabilità temporanea vuol dire che io che non mi classifico come una persona con disabilità domani speriamo di no ma potrebbe succedere inciampo mi rompo una cariglia e vado in giro con le stampelle per due settimane ho una disabilità temporanea e per due settimane avrò una limitata mobilità ma ancora più importante e ancora più impattante nella vita di tutti con o senza disabilità o con o senza limitazioni funzionali sono le disabilità situazionali le disabilità situazionali sono quelle limitazioni funzionali dovute non tanto a una a una caratteristica della persona quanto a una caratteristica dell'ambiente che impatta su quella persona l'esempio più comune è quello di quando noi stiamo guidando l'automobile se noi siamo in macchina e stiamo guidando non possiamo concentrarci a lungo sul display anzi molti lo fanno purtroppo ma non dovrebbero farlo non possiamo star lì a digitare a scrivere qualcosa di nuovo molti lo fanno ma non dovrebbero farlo per cui abbiamo una forma di serenità situazionale siamo limitati nella scrittura siamo limitati nell'attenzione possiamo dare al device e così via questo è un caso magari banale ma molto pertinente un caso molto più eclatante è quello per esempio delle delle attività di emergenza noi stiamo andiamo in ballo adesso abbiamo in corso anzi deve iniziare tra pochissimi giorni inizierà un progetto in cui noi andiamo a sviluppare dei sistemi fatti proprio in caso di emergenza in un impianto industriale supponete che ci sia un vigile del fuoco che deve intervenire in un caso di incendio col fumo che gli proibisce di vedere il rumore del fuoco delle ambulanze dell'acqua della sirena che gli proibisce di sentire e con tutti i guanti i vestiti che gli proibiscono di percepire bene il tatto questa persona in questa situazione ha una forma di disabilità non vede bene non sente praticamente nulla non riesce a sentire il tatto non riesce a premere bene i pulsanti perché c'è dei guanti grossi così che gli impediscono i movimenti se noi dobbiamo pensare a una soluzione a un'app che guidi o la persona che soccorre o le persone che sono dentro ad uscire abbiamo bisogno di tenere in considerazione questi aspetti e con questi aspetti molte di queste soluzioni si derivano dalla ricerca nel campo delle tecnologie assistive è un po' che non mi arrivano domande vi sto annoiando mortalmente Serena si è addormentata sto scherzando Serena fammi interagire un attimo perché se no cara l'attenzione non ci sono ancora domande appena ci sono te le passo va bene va bene volevo interrompere un attimo la mia parlata monotona per così magari qualcuno che stava un po' cadendo l'occhio si è ritirato un attimo allora io vado avanti in realtà ho preparato un po' di slide non riesco neanche a farle tutte ma dopo vediamo dove mi fermo c'è un altro aspetto che a me è molto caro ed è quello dell'impatto della ricerca sui tempi finali perché molto spesso parlando di ricerca nell'ambito tecnologie assistive ci si pone il problema e spesso si rimane un po' delusi dal fatto che la ricerca in sé non porta benefici diretti alle persone con disabilità cioè vi faccio un esempio quando vi ho parlato all'inizio della mia presentazione di quel bellissimo lavoro del 2008 che poneva le basi per l'accessibilità ai dispositivi mobili non è che quei ricercatori lì hanno creato quei software loro hanno creato la conoscenza che dopo è stata presa usata non so se Apple piazzata ha preso il punto o ci è arrivata in maniera indipendente questo non mi interessa è stata usata da Apple per fare voice over e quindi rendere i dispositivi mobili accessibili ma quei ricercatori lì non hanno fatto niente cioè quei ricercatori lì hanno fatto la loro ricerca lo scopo della ricerca non è di creare un prodotto ma di generare conoscenza e questo devo dire può essere un po' demotivante vi faccio un esempio io quando abbiamo provato l'applicazione delle strisce pedonali sto parlando ormai di quasi otto anni fa l'abbiamo fatta provare a delle persone con disabilità visive e queste una in particolare un po' scherzando ma c'era un fondo di verità ci ha detto dopo la prova io non ve lo restituisco mica questo smartphone per questa applicazione che funziona benissimo io la voglio ma siccome so che si aiuta lo smartphone poi voi non la fate più avere mi tengo lo smartphone così so che funziona ovviamente stava scherzando poi lo smartphone ce l'ha restituito e io gli ho detto ma no non si preoccupi guardi vedrà adesso era bellissimo questa applicazione vedrà che sicuramente poi la rilascieremo tra poco e invece sono triste di dirvi che quell'applicazione per quanto funzionasse molto bene non è mai stata rilasciata perché noi volevo ricordare alle persone di iniziare a fare le domande perché ci rimangono soltanto dieci minuti quindi va bene appena sentite fate le domande grazie io farei modo di finire qualche minuto prima per lasciare il tempo le domande ma vi ho già detto di farle mentre parlo quindi sono contento di interrompermi per rispondere di interrompermi per rispondervi quindi e di fatto quella ricerca che aveva prodotto un prototipo che funzionava molto bene gli utenti erano contentisti non l'abbiamo mai rilasciato perché perché noi come accademici come ricerca universitaria non possiamo non abbiamo quelle infrastrutture che ci permette di rilasciare l'applicazione se non in particolari casi usando un po' una scusa la scusa che usiamo noi come laboratorio everywhere di cui faccio parte è è quella di dire noi stiamo facendo una ricerca per la quale ci serve che gli utenti finali non durante un test quelli contattati da noi ma che chiunque possa usare una certa applicazione in modo tale che poi noi raccogliamo i dati su come usa l'applicazione e allora possiamo questo è la nostra sono i dati che siamo per fare ricerca quindi noi pubblichiamo l'applicazione non so quanti di voi c'è qualcuno che conosce l'applicazione iMove non aspetto la risposta perché arriva tra troppo tempo comunque fatemi sapere se qualcuno di voi conosce l'applicazione iMove iMove è un'applicazione che supporta l'orientamento delle persone con disabilità adisive mentre community c'è l'indirizzo cosa c'è attorno cose di questo genere e mentre l'applicazione è in funzione raccoglie dati anonimi di utilizzo quindi noi abbiamo fatto l'applicazione l'abbiamo resa disponibile l'abbiamo usata per raccogliere dati da oltre 100 10.000 utenti magari 100.000 no solo 10.000 e poi abbiamo fatto tutta un'analisi abbastanza sofisticata di questi comportamenti di questi utenti e abbiamo identificato diversi aspetti interessanti da un punto di vista scientifico adesso non vi faccio perder tempo di fatto abbiamo capito che noi abbiamo progettato l'applicazione per una certa categoria di utenti che ci aspettavamo avrebbe usato l'applicazione in un certo modo ci siamo accorti che invece l'applicazione veniva utilizzata più o meno da un numero maggiore di persone cioè avete il pallino blu rappresenta le persone che noi avevamo in queste immagini uno schema con tre pallini uno blu uno verde uno rosso più o meno delle stesse dimensioni i quali nel pallino blu erano quelle che noi pensavamo usavano l'applicazione nel modo in cui noi pensavamo doveva essere utilizzata noi pensavamo che tutti utilizzassero così in realtà c'è il pallino verde e il pallino rosso che più o meno sono delle stesse dimensioni che sono utenti che la usano in una maniera a cui noi non avevamo pensato quindi noi pensavamo utilizzassero in una maniera in realtà più della metà della pressione la usavano in maniera diversa da quella che ne avevamo pensato all'inizio quindi è stato un risultato molto interessante direi che mancano cinque minuti io ho presentato tutta un'altra caravata di slide che evidentemente non riesco a fare Sergio una cosa interessante è di Marinella Tomasello non è una domanda però dice che sarebbe molto interessata leggere gli articoli che le vuoi suggerire e soprattutto quelli sulle traduzioni di più variabili quindi non so magari le contatto aveva fatto la domanda anche prima no? no in realtà sì ah Marinella Tomasello sì Marinella senti guarda lascio la mia mail che è sergio.mascetti chiocciola unimi.it unimi sta per Università degli Studi di Milano unimi.it quindi sergio.mascetti chiocciola unimi.it se mi mandi una mail ti posso mandare mi dici esattamente i materiali vuoi te lo posso mandare senza problemi così poi magari mi spieghi anche perché sei interessata mi interessa io ho ancora io ce n'ho da parlare per ancora cinque minuti se arriva una domanda sono contento però gli direi Serena che vado se per te va bene io vado avanti a parlare poi man mano che arrivano le domande mi fermo allora volevo solo accennarvi di delle tematiche più care che facciamo che trattiamo noi all'interno del laboratorio di hardware noi trattiamo tematiche di privacy di activity recognition che in questo momento non ci interessano e poi tematiche di tecnologia assistiva e in particolare voglio parlare di due tematiche il supporto all'apprendimento e il supporto alla mobilità il supporto all'apprendimento di fatto vuol dire creare delle tecnologie accessibili per supportare l'apprendimento sia dei bambini in età a scuole primarie sia delle persone più grandi abbiamo fatto due applicazioni che tra l'altro vi invito a provare una si chiama Word Melodies e l'altra si chiama Math Melodies sono delle applicazioni disponibili sull'e-store che servono per imparare la matematica e l'italiano qual è il problema di base ve lo spieghi in un secondo quasi tutto il materiale disponibile per la didattica ha delle componenti grafiche che a volte sono indispensabili proprio per rappresentare un concetto per esempio se vuoi spiegare il triangolo alla persona vedente il triangolo lo spiego con un disegno non mi metto a spiegarle a parole cos'è un triangolo faccio molto prima fare vedere il disegno quindi a volte è indispensabile ma a volte non sarebbe indispensabile l'elemento grafico ma viene utilizzato perché aiuta ad aumentare l'attenzione del bambino quindi qua c'è un esempio in cui c'è un esercizio banalissimo che si potrebbe fare anche senza disegni però e ci di fianco ci ha messo una coccinella un omino che sorride con le antenne perché l'ha messo perché quella cosa lì aiuta il bambino a tirare l'attenzione quindi aumentando l'attenzione imparare di più questo spesso manca mancano degli strumenti di questo genere accessibili quello che stiamo facendo noi è provare a creare delle applicazioni che siano al contempo interessanti quindi che tengano alto l'interesse del bambino ma che siano accessibili ok quindi potete anche qua se siete interessati poi vi posso dare tutte le informazioni poi vi faccio vedere un esempio questa è un'applicazione che per esempio permette di fare gli esercizi di matematica contando gli animali ok quindi il bambino tocca col dito gli animali senti il rumore del cane tocca i gattini senti il rumore del gatto e vi assicuro che quando abbiamo fatto le prove ai tuoi bambini erano super divertiti solo dal fatto di sentire uff e miau quando toccavano col dito perché i bambini non vedenti spesso hanno meno applicazioni ludiche con cui intrattenersi quindi anche solo il verso del cane il verso del gatto per loro era divertente e quindi poi così possono svolgere gli esercizi e invece questo anche per rispondere a Marinella che era interessata questa è un'applicazione che ti invito a trovare si chiama Invisible Puzzle adesso non è scritto perché non ho scritto in questo slide ah no forse è scritto sotto no non c'è scritto si chiama Invisible Puzzle lo trovi sul sull'iq store ed è un'applicazione che è un gioco che però utilizza la sonificazione per permetterti di esplorare immagini si inizia da immagini molto semplici un puntino poi si fa un segmento poi si fa una linea curva poi si fa la linea spezzata e man mano che vai avanti le immagini diventano sempre più difficili e tu devi prima esplorarlo ovviamente senza vederlo quindi se sei non vedente non c'è problema ma se sei anche vedente visto che siamo al termine mancano solo due minuti c'è un'ultima domanda di Universal Access si e ti chiede che gli interessa sapere se ci sono ricerche per quanto riguarda l'accessibilità nell'ambito della realtà virtuale sì grazie bellissima domanda sì ci sono ricerche un po' l'abbiamo fatta anche noi allora la realtà virtuale si può il problema della realtà virtuale si può affrontare in varie prospettive ho l'orologio davanti a me vedo che ho 50 secondi per rispondere si può affrontare in varie maniere ovviamente ovviamente se parliamo di disabilità visiva il problema è avere tecnologie assistive con la realtà virtuale che per esempio propongono una realtà virtuale uditiva rispetto a una realtà virtuale visuale e Noemi ha fatto alcuni lavori per esempio per guidare con un sistema di realtà virtuale uditiva una persona nel ruotare di un angolo corretto in modo tale da indicargli la strada con tecniche sempre di sonificazione quindi è una tecnica di sonificazione in realtà virtuale che mentre l'utente gira cambia il suono in modo tale da guidare la persona a orientarsi nell'angolo giusto ho risposto alla domanda del genere in 45 secondi insomma ragazzi scusami magari Universitas Action si vuole sapere qualcosa di più ma il tempo era veramente finito comunque un'altra cosa che ti volevo dire è che Marinell ha detto che ti contetterà l'email benissimo grazie manca un minuto vuoi aggiungere qualcosa di importante il mio orologio fa 17 e 15 ma se ha un minuto vado avanti a parlare ci posso parlarti anche due giorni di queste cose qua no allora vado avanti un minuto giusto un minuto per l'altra tematica è quella del supporto alla mobilità abbiamo fatto vari argomenti di ricerca sul riconoscimento degli oggetti che si trovano in un ambiente urbano che quindi possiamo riconoscere per poi trasferire alla persona con disabilità per esempio visibile quindi vedo prima le specie pedonali vi accenno adesso i semafori Sergio scusami ho di interromperti ma siamo arrivati alle 17 e 15 ho usato l'ultimo minuto ci siamo va bene non ci sono no no ci mancherà sapevo di aver finito il tempo quindi vi rilascio soltanto la mia mail e se volete il mio link al laboratorio grazie a tutti per l'attenzione non so in quanti siete stati ma quanti erano? 56 wow ragazzi che è successo grazie mille grazie mille serena ah scusate no vi dico una cosa scusami una cosa alle 18 parlano alcuni miei ex studenti o ancora studenti su una tematica che stiamo trattando adesso che è la disponibilità dell'API di accessibilità nelle piattaforme di sviluppo è una tematica un po' tecnica per chi si occupa di sviluppo di tecnologie assistive ma abbiamo fatto un lavoro veramente carino e vi suggerisco di seguirlo e se siete interessati all'accessibilità delle opere d'arte scrivetemi che sono contento di parlarne va bene grazie mille grazie serena ciao buona continuazione a tutti ciao io interrompo la condivisione e interrompo il video